Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la confusa, per la solidarietà, per la parte per questo festival non lo dimenticherei mai. Grazie a tutti. 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 Noi siamo, è un unico territorio, un unico territorio collaboriamo e cerchiamo di promuovere il più possibile, sia dietro e quando è possibile, anche da parte nostra, cerchiamo di dare un'offerta ai... La collaborazione di Ritmantiratonicamente l'hanno avuto da tante persone che non ci aspettavamo, soprattutto una persona che in questo momento abbiamo avuto qui, che noi non aiutiamo, grazie Lorena, anche perché quest'anno è un po' come dire, sei coinvolto, perché uno dei gruppi è del tuo paese di residenza, quindi vi spiegheranno dopo i nostri presidenzi del comità professale e poi il programma dell'avvicinazione, e lo stesso non ci si, anni, ultima è importante, insomma, questa collaborazione è importante perché mai come in questo momento siamo, come mandiatore, dando un segnale chiaro e forte, insieme si parla a te. Io volevo fare la premessa che comunque sono onorata, insomma, di essere qui con voi, ma faccio sempre la precisazione che si lavora tutto l'anno per questi eventi. Il culmine è quello del 6 agosto, una sessione a distruzione, perché spesso mi trovo a collaborare con un'immensa sessione alla cultura che è qui a fianco a me, proprio perché l'istruzione e la cultura molto hanno a che fare tra di loro a proposito di collaborazione tra settori. Questo perché, come abbiamo anche avuto modo di parlarne con gli spagnatori carenzi, è importante educare già in tenere età i bambini alla cultura e alla qualità della nostra città. Quindi voglio dire che è un festival che verrà anche istituzionalizzato, come anticipato il sindaco, che è il festival delle torri che giunge alla trentunesima edizione, voglio dire che è un festival di una fondamentale importanza e ha tutto il diritto di avere questo riconoscimento e se mi permettete, diciamo che è anche un po' a chiusura del grande lavoro che viene importo da tutta la squadra, perché ho avuto modo di vedere con i miei occhi quanta passione viene messa in tutto ciò che si fa per questa manifestazione. abbiamo bisogno di accoglienza, di integrazione, di inclusione, di collaborazione, di condivisione e questo deve partire proprio dalle istituzioni che devono dare un esempio in tal senso e nella riprova, nella collaborazione con il Comune di Vieto e sul Mare. Quindi, come tutti dal primo all'ultimo, perché ognuno ha dato un grande contributo affinché si chiarizzasse non solo l'evento del 6 agosto, ma tutta una serie di manifestazioni ed altro che magari non si vede, ma c'è, stengo a sottolinearlo. Grazie. Grazie, io sono stato con tutti gli assetti e obiettivi, con tutte le notizie, però qualcosa ve la devo anticipare. Vorrei che tu alla fine, mi permetto del tuo perché sono tantissimi anni che ci conosciamo e sono come un fratello, vorrei che tu facessi una chiusura finale, perché credo che alla fine, mai come in questo momento, parliamo di cultura e parliamo di realità e tu ne sei espressione totale di questo scorso di riprendere il nostro festival. Ringrazio Antonio Mannare che il Presidente del Comitato Festival, che ha accettato con tutta la squadra questa sfida, perché purtroppo sappiamo benissimo che, non soltanto con questi due anni di scopo, ma riprendere le manifestazioni in questi periodi non è mai facile. E siamo arrivati ad oggi, siamo agli sgoccioli per questa prima serata che ci sarà la settimana prossima. Io mi riegancio un attimo a discorsi che ha fatto sia il Sindaco che Lorena Ligliano per il discorso della pace. Forse la molla che ci ha fatto scattare quest'anno per accelerare anche, diciamo, l'induzione festival è stata proprio il tema della guerra. Quindi portare sempre il messaggio della pace, dell'accoglienza, della diversità culturale che ci ha consistito nella nostra storia, nei nostri 50 anni. Infatti il festival sarà un grande ingranaggio per chi anticiperà i nostri 50 anni dell'anno prossimo. Oltre che per i giovani, quello per cui noi lavoriamo tutto l'anno sono i nostri ragazzi. Ci proteggiamo con le scuole per far appicinare i ragazzini al mondo dell'associazionismo sano. Quello che noi facciamo senza scopo di lucro lo facciamo diciamo che il territorio. E soprattutto sto facendo in prima persona l'unione tra le associazioni del territorio, non soltanto quelle folcloristiche ma anche quelle sportive. Purtroppo questo è un periodo particolare dove da soli veramente non si va lontanissimo ma con l'unione di tutti possiamo fare veramente grandissime cose. Lascio la parola ad Antonio Mannara per il programma degli eventi. Grazie. Grazie Presidente. Io vorrei però, non ho detto all'inizio, perché volevo che si facesse, si vicesse questo, il lavoro che è stato svolto. Ma il lavoro più importante è stato svolto con un visionario a cui quest'anno è dedicato il festival e a cui sarà dedicata una cosa che dopo il giorno non sarebbe a conoscere. Una persona che ha creduto in ragazzi, che come dire, che di sorprenditi e tanti altri, che come dire, erano non visionati, probabilmente avevano potuto conoscere altre state. Quell'uomo gli ha portati, ha detto forse per una bandiera e poi cambiare il tuo mondo e la tua linea. Quell'uomo è la lingua sottentiva. Applausi. Ora, l'unione che ha dedicato a questo festival sarà difficile, vi anticipo, sarà molto difficile, non ricordarlo e non è molto facile. Per cui chiedo, un grande applauso all'interno. Grazie a tutti. I motivi che sono pubblicati alla crisi pandemia che ha individuato nel giornalismo, nello sport, nella musica e nella medicina, ancora fondamenta sulle quali è resistenza alla possibilità dei gruppi e dalle quali ripartiamo. Pertanto i nomi del marciatore sono stati assegnati da Giuseppina Alessio di Rai News 24, a Fabrizio Paella per lo sport, a Giulia Oliver Mazzarini per la musica e a Emergency per il volontariato. Premi speciali invece per coloro di quali sono particolarmente dissimili da alcuni campi, sono Antonello De Rosa, del Vista Teatrale, Ella del Vistino di Venezia Storica, Autidia Vagliano, Spiriti e Francesca Torino. Li giocheremo tutti quanti qui, tranne, per fortuna, consegneremo un premio per la Giuseppina Marcelli, sono chiamato per un'importante turmette da 4 fino a fine mese in Francia, e quindi li augureremo a un voto di premio. E' altra cosa che magari è come il teatrale che faccia appunto l'impatto di cibo. Antonio Mannara, tanto lavoro, tanto spiore, tante incassature, tanto arrabbiarsi, ma proprio con la fine mese in Francia. E' il risultato finale che vedete qui. Bene, avete un po' detto tutti noi dal Zingaro e dal Zingaro, Posso dire solo, vi ringraziamo, innanzitutto il Zingaro, gli assessori, Armando Lambè, Lorena che con letteralmente del Fintrumpo, l'ho chiamato per ogni problema, lei non risponde a un altro senatore, che chi più ci sta, Antonella Carocco, cioè veramente si sono dimostrati amici e ci hanno dato una grossa mano affinché la ripresa e la riportata a casa. Questo che riteniamo che la fiorra l'occhiera del gusto ci rende l'occhiera. Quindi grazie a tutti i temi che ci saranno fissicati un po' e di affrontare con migliori problemi, però alla fine penso che il risultato sarà come al solito. Eccetera. Grazie mille. Vi spostiamo con un commentare su al cuore, come vi ho avuto a parlare, ma vorrei ricordare anche con la persona in frontale che è vicino al festival d'altrume, anzi, la struttura. A tutti i sponsor e gli enti patrocinanti, in sicurezza, vada a essere giornalisti. Sono indicati da posto. Sì, sono indicati qua, i giornalisti è da posto. Grazie a loro. Quello che ci fa piacere è il main partner, se volete ben detto i sponsor, cosa che è giornalista. No. L'unica cosa che la giunta promosano a main partner è che sono tanti altri sponsor, che hanno partecipato in un modo veramente voluto. La parte dell'Europa orientale non c'è... Aspettate, dopo facciamo le domande, forse siamo divernati, la conferenza salva, non lo faremo. Un giorno così. La situazione è questa. Abbiamo una città di cavali di pene che della cultura, della solidarietà, della pace, della toleranza, ne ha fatto un giorno d'ora. Tu sei uno degli ultimi strumenti di questa grande cultura calese che non può fare altro che migliori. E questo confido è un grande lavoro, un grande impegno, grandi sofferenze, quando bisogna vedere i nuovi motivi, ovviamente non di me ne vedi, ma soprattutto una grande apertura a quello che è l'oro. Non siamo qui, dobbiamo lasciare il posto a loro. Noi siamo qua solamente come mezzo, come strumento, come un arco per lanciare l'oro. per cui a questo punto che cos'è che è il Festival degli Torghi e quali sono le prospettive culturali del Festival degli Torghi? Io prendo la parola con un punto di vicino e ripeto alcune delle cose che sono state dette. Mi piace partire dalla considerazione che sta da parte ricordarlo il promotore di questa grande pianta conosciuta e che le hanno avanti. E quindi il fatto che nei vostri conti ci sia molto forte la presenza di Vito Soffertino è una testimonianza che si aggiunge ai messaggi che voi con questa iniziativa intendete diciamo trasmettere ma anche all'intera comunità. Ecco insomma una comunità vive proprio di diciamo il simultero dell'impegno della passione di quelle persone che sentono in maniera forte il senso di appartenenza alla comunità. E l'immo sicuramente è stato poi si uniscono le parole di apprezzamento per tutto quello che la facione fa non solo per diciamo contribuire a trasmettere la cultura del fotore ma soprattutto a cercare di favorire i dialoghi e la musica è un linguaggio universale c'erano musicisti e lo stesso direttore era diciamo americano sposato con un gran ecco è la testimonianza questa di tante associazioni culturali che operano sul territorio una grandissima ricchezza certamente voi rappresentate una grande ricchezza lo ha sottolineato anche il sindaco ricchezza che è stata conosciuta anche attraverso i tempi che abbiamo profuso a di là del problema strettamente burocratico che sarà ovviamente risolto pensate che io stamattina ho potuto modificare un impegno istituzionale importantissimo per poter illustrare il punto del Consiglio Comunale poi c'è stato un problema diciamo tecnico che voleva tranquillamente essere evitato ma quindi la dialettica politica purtroppo si comporta anche queste cose e bisogna avere anche la pazienza per andare per cui tra qualche giorno sarà professionalizzata questa scelta dell'amministrazione insieme a tutti che ho statuto questa manifestazione questa manifestazione ovviamente Cano Artone si inserisce nell'ambito del grande progetto culturale città di Cava dei Cittelli che diciamo guarda il 2025 per candidare Cava dei Cittelli capitale e cambiare per quando si fanno perdere il risultato adesso non ci facciamo soluzionare durante la pandemia adesso dallo Stato di sofferenza economico finanziaria dell'Emp che non ci consente di avere un minimo di autonomia finanziaria ci ausiamo e con la grosse masse della scalenza dell'approvazione dei finanzi di previsione e poi del cambio dei gruppi riusciremo ad avere un minimo di autonomia finanziaria in maniera tale anche da poter accompagnare le iniziative importanti che si rivolgono sul nostro territorio grazie a di tante realtà importanti in maniera più significativa nell'ambito di questo progetto di candidatura Cauda e di Preci capitale italiana della cultura noi ovviamente cerchiamo anche di valorizzare segnatamente le iniziative che a nostro avviso non solo sono consolidate oramai in tempo in questa poeta certamente ma che hanno aumentato un particolare apprezzamento perché nel progetto di candidatura ovviamente si fa un bilancio delle manifestazioni che esistono già sul territorio oltre a prevedere quello che si possono interagire per cui la risposta è che se esalto noi guardiamo non sono parole di circostanze con grande attenzione e ammigazione anche debito di gratitudine all'associazione per questi importanti iniziative che sia un'imitazione di crescere nel corso del tempo anche nel luogo del caro per cui è un'azion che è veramente il motore diciamo mobile di queste serate e sicuramente sarà una prezza visita per cui un'azion che perde alla piazza san francesco dal convento che è un'azion che è il convento della ospitalità e arriverà la nostra sera sarà un'anteprima sarà un'anteprima a quello che succederà nei prossimi giorni i giornali ci trasferremo a dieci su un'area a piazza san francesco della piazza con due serate il 4 e il 5 saranno due serate abbiamo diviso queste due serate ci ha chiesto due serate e non c'è il modo veramente disattico abbiamo accettato però è una piastra meravigliosa il mare di il traccio turistico il 6 invece abbiamo un'azion con tutti gli ospiti di ci tanno una gran bella sorpresa che spereremo il 5 perché il 5 avremo un ospito importante una ringrazione importante a pietri 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 Grazie a tutti